Allora, buongiorno a tutti. Io sono Simone Pastor della sovrintendenza Capitolina e il mio collega Matteo Lombardi dell'Università di Ferrara. Oggi discuteremo un tema complesso ma interessante e ricco di spunti, digitale o analogico, fisico o virtuale, materiale o immateriale. Io farò una prima premessa concettuale e poi partiremo con una serie di esempi diciamo europei e mondiali. Sentimenti differenti si agitano quando si parla di beni culturali, soprattutto quelli archeologici presenti nelle aree archeologiche, nei musei o quelli sparsi nel territorio. Sentimenti differenti e spesso contrastanti anche perché vari sono i soggetti che entrano in relazione con questi resti. Studiosi, esponenti delle forze politiche, amministratori locali, operatori delle pubbliche istituzioni preposte alla tutela, associazioni culturali e ambientali. C'è però un problema generalmente trascurato, quello del significato che queste preesistente rivestono nell'immaginario dei cittadini e delle loro comunità. È evidente che questo tema chiama direttamente in causa gli archeologi, i museologi, i funzionali pubblici, quantomeno quei professionisti, come tutti noi presenti, che pur impegnati nella ricerca scientifica coltivano una passione civile che li spinge a interessarsi alle ricadute sociali delle loro indagini, ma anche dei loro comportamenti professionali in termini di progetti e di azioni. Il tema di questo workshop è molto importante proprio perché nasconde dietro alla complessa e interessante tematica del digitale, dell'effimero, una considerazione fondamentale. Se si accetta che l'archeologia sia una disciplina storica, chi fa il nostro mestiere non può non fare i conti con l'uso pubblico della storia, riflettendo sul sé e sul come, i risultati del nostro lavoro, della ricerca scientifica, della ricerca archeologica, la valorizzazione sotto le molteplici forme di cui oggi parleremo, possano contribuire a rafforzare il rapporto identitario tra città e cittadini, tra presente e passato. Negli ultimi anni uno strumento d'aiuto, ribadisco d'aiuto e non esclusivo, importante per sintetizzare queste necessità è stato il multimediale. Sia il momento generativo della conoscenza che la sua successiva propagazione nel tempo e nello spazio, possono oggi beneficiare fortemente dei progressi intervenuti nel campo delle tecnologie. Di pari passo con la trasformazione dei contenuti da analogici in digitali e la conseguente smaterializzazione dei supporti attraverso i quali la conoscenza viene sedimentata e messa in circolo. L'avvento di internet prima e di soluzioni tecniche che nel corso degli ultimi anni ne hanno reso sempre più facile e soprattutto ubiquo l'utilizzo, l'accesso in modalità wireless, la banda larga, lo smartphone, nonché i più recenti wearable device, ha dunque determinato e determinerà ulteriormente un profondo cambio di paradigma, restituendo visibilità e spessore alla dimensione soggettiva di ciascun individuo. Ciò che occorre sottolineare infatti è la possibilità offerta a ciascun utente non solo di accedere ad uno sterminato compendio di informazioni attualmente presenti su internet e costantemente aggiornate su ciascun campo del sapere, ma anche e soprattutto la possibilità di generare egli stesso contenuti e di immetterli con grande facilità in rete, in un processo estremo di condivisione istantanea di proprie valutazioni, commenti, interessi, attività, relazioni sociali, rapporti professionali e quant'altro. Con l'avvento del web 2.0 e la nascita dei social media, l'individuo ha assunto dunque un ruolo baricentrico nel processo di creazione e diffusione della conoscenza, in un contesto di ampia e diffusa socializzazione dei saperi. Tutti si relazionano con tutti su tutto, dunque anche solo a voler considerare l'evoluzione pure recente di internet, che innegabilmente rappresenta uno dei vettori di cambiamento della società, tra i più rilevanti ma non per questo il più importante, appare del tutto evidente che il mondo che esiste al di là del perimetro fisico del museo sta subendo un profondo cambiamento e pertanto è necessario che il museo stesso, al pari degli altri soggetti, esprima la capacità di mettersi in discussione in modo profondo. Questa tendenza era apparsa quale necessaria evoluzione verso nuove forme di intendere il ruolo del museo già nel lontano 1972. In occasione della conferenza dell'ICOM tenutasi a Santiago del Cile, la risoluzione della tavola rotonda sul ruolo e lo sviluppo dei musei nel mondo contemporaneo, nota più semplicemente come dichiarazione di Santiago. Stabileva con chiarezza fattezze e prospettive del nuovo museo attraverso tre postulati basilari. Il primo punto della dichiarazione affermava il rifiuto di concezioni elitarie ed esclusiviste della cultura, come della gerarchizzazione artificiosa in forme alte e basse d'espressione, postulando una concezione olistica e diffusa del patrimonio culturale. Il secondo e il terzo punto sottolineano invece l'urgenza di trasformare il museo vitrina maggioritario, dominato da relazioni di potere asimmetriche, in un attore territoriale attivo ed integrale, in grado non solo di conservare ed esibire il patrimonio diffuso, ma anche e soprattutto di produrre cultura e capitale sociale attraverso la sua tutela e la sua valorizzazione partecipata. Il rapporto tra i musei ed internet si è rivelato spesso un rapporto problematico, quantomeno nel panorama italiano. La presenza in rete dei nostri musei appare ancora limitata, in molti casi la qualità di tale presenza è scarsa, risolvendosi nella presentazione di contenuti molto frammentari e tendenzialmente statici, cioè aggiornati con poca continuità. L'approccio utilizzato dai musei nella comunicazione digitale è prevalentemente di tipo unidirezionale, reprigando quindi tristemente quanto già accade all'interno dei percorsi allestitivi. Gli strumenti a disposizione per interagire in modo maggiormente dinamico con i propri pubblici, tipicamente rappresentati dai social media, spesso non vengono neanche presi in considerazione e quando accade ciò avviene per lo più in assenza di una strategia complessiva di utilizzo. Diversamente da quanto avviene in altri contesti nei quali l'uso dei diversi strumenti digitali trova la sua pianificazione a livello di sistema. Ai musei serve quindi una strategia che permetta loro di gestire direttamente la digitalizzazione all'interno della propria istituzione. La strategia mira a riunire lo sviluppo di queste strutture e a collegarle a una finalità comune. Può servire sia come inventario per valutare competenze, strumenti e risorse disponibili, sia per fornire indicazioni per la pianificazione, per formulare obiettivi e missioni specifici. La strategia digitale è quindi l'elemento centrale in ogni offerta e metodo operativo digitale e la base per decidere pro e contro nuovi progetti. Entriamo ora nello specifico della nostra trattazione. Di cosa parliamo quando ci occupiamo di digitale nella sfera culturale? Fino a qualche anno fa una domanda del genere avrebbe suscitato accesi i dibattiti di stampo fondamentalista tra pro e contro. Il digitale come una dimensione da sposare oppure al contrario da rifiutare nella sua interezza. E questo ancora di più se ci si confina nell'ambito dell'ecosistema culturale che comprende musei e patrimonio. Oggi questa fase può dirsi superata, non si può essere contro il digitale in senso stretto perché sarebbe andare contro le maree. Però per molti, per quanto inevitabile da accettare, il mondo digitale nella sfera culturale viene visto più come un male da sfatare che come il dischiudersi di un nuovo mondo, di nuove possibilità. La ragione è chiara. Si pensa al digitale come una formidabile arma di distrazione di massa che, anche quando sembra voler favorire l'accesso all'esperienza culturale e alla partecipazione, in realtà fa il gioco contrario stimolando le persone a uno sguardo sempre più superficiale, a un'attenzione sempre più erratica, a un pensiero sempre più disattento. L'immagine simbolo di tutto ciò sembra essere la famosa foto che ritrae un gruppo di teenager seduti nel Rift Museum di fronte alla ronda di notte di Rembrandt, tutti intenti a guardare i propri smartphone invece del quadro. Una foto che prevedibilmente attrasse estrali polemici di ogni genere in quanto prova inconfutabile della barriera estetica, della barbarie estetica alle porte. Quel che è emerso tempo dopo, successivamente ad articoli di condanna, fu che i protagonisti di quella scena stavano in realtà usando i propri smartphone per documentarsi meglio sull'opera che avevano di fronte e sulla collezione del museo, ovvero stavano facendo proprio quello che ci aspetteremmo o ci augureremmo da un visitatore consapevole e interessato. L'apparenza dunque inganna. Ciò non vuol dire che il digitale non abbia ombre e non ponga sfide che necessitano di intelligenza e attenzione. Occorre quindi affrontare le tematiche connesse al digitale nella sfera culturale, nella loro ramificazione sempre più complessa, con mente aperta, con curiosità e soprattutto con una gran voglia di documentarsi. Ma andiamo in ordine. La prima funzione del digitale è quella al servizio della più tradizionale missione del museo, la conservazione. Mi riferisco alla produzione di documentazione a scopo archivistico e conservativo, alla diagnostica, ad esempio attraverso TAC e radiografie. Insomma, la digitalizzazione in ogni aspetto della collezione e della sua storia, conservativa e di curatela, organizzata in record specifici. Per questo recentemente sono stati stanziati molti milioni di euro dal MIBAC e una specifica direzione generale, la Digital Library, che provvederà attraverso ALES alla digitalizzazione di tutto il patrimonio italiano, progetto nel quale sono contento di partecipare per la parte relativa alla digitalizzazione del patrimonio relativo ai musei e ai parchi archeologici. Come sapete i musei hanno depositi pieni di oggetti, di opere che possono essere digitalizzati in primis e pubblicati sui media, come banche dati, di collezioni, mostre, pubblicazioni e materiali di comunicazione. La difficoltà sta nel tradurre questa varietà di contenuti nella forma adatta a media digitali. Ciò comprende sia la digitalizzazione di singoli oggetti, sia l'elaborazione di dati relativi a collezioni e contenuti espositivi, nonché la produzione di contributi per il sito web o per i profili sociali. Con l'aiuto di internet, i contenuti digitali possono essere resi accessibili e utilizzabili a livello globale. Grazie all'open access si democratizza la promozione del patrimonio culturale. Per le istituzioni della memoria questa possibilità di apertura è un'opportunità per agevolare i propri compiti fondamentali di raccolta, conservazione, comunicazione, oltre a testimoniare le esigenze di inclusione, partecipazione e sviluppo del pubblico nell'ambito di una società in evoluzione. Adesso volevo farvi un esempio molto importante. A metà tra valorizzazione e conservazione, vi propongo un esempio interessantissimo della società alta definizione, con la quale ho avuto il piacere di collaborare e che nel 2005 ha inventato un nuovo modo di concepire l'arte. Voglio farvi vedere il loro sito. Ecco qui, questo è una delle numerosissime opere che loro hanno digitalizzato, già solo sul loro sito voi potete andare nello specifico di ciascuna opera. Perché vi dico questo? Capite quanto possa essere ampio lo spettro di utilizzo di un prodotto del genere, sia per la conservazione, ma anche dal punto di vista della valorizzazione, quindi per la sostituzione di opere in restauro, o prestate in mostre, o per la funzione online, come in questo caso. Quindi in questo caso noi abbiamo il sito di alta definizione con tutta una serie di opere e riusciamo ad arrivare anche lì dove i restauratori ad occhio nudo non riescono a vedere. Simone, scusami un secondo, dalla chat dicono che non si vede il sito, che in realtà è cosa che confermo, perché siccome mi sa che hai condiviso la scheda del PowerPoint e basta, se vai su web non rimaniamo fermi la scheda del PowerPoint. Grazie mille. Scusami, ma stavo controllando se era un problema mio o se... Assolutamente, no, è una cosa che solamente dobbiamo far vedere. Vediamo un po', eccoci qua, vedete? Ora sì. Allora, torniamo indietro, vi voglio far vedere un caravaggio. Vedete il caravaggio che si apre. Guardate. Guardate il livello di definizione di un'opera, di un progetto di questo genere. Quindi andiamo anche al di là, no, dell'occhio del restauratore. Con questo progetto molti, molte opere sono state restaurate perché sono state viste delle crepe sulle pitture che ad occhio nudo realmente non si vedevano. Quindi capite, no, quanto possa essere ampio lo spettro di utilizzo, sia per la conservazione, come abbiamo detto, sia ovviamente per la sostituzione di opere, opere che vanno in mostra, no, opere che vanno in restauro e che possono essere reintegrate con un prodotto di questo genere. Un livello più complesso è il caso della documentazione dell'effimero, tema ovviamente molto vicino più all'arte contemporanea che all'arte antica. Come ad esempio l'operazione di fermare nel tempo l'immaterialità di una performance e renderla riproducibile. Un'arte creata per essere vissuta in un momento in relazione corporea e di spazi con chi da spettatore la condivide, viene rispettata allo stesso modo condividendo la sua versione filmata e riproducibile. Insomma, passare, in questo caso ve lo faccio vedere, passare attraverso la porta ai cui lati stanno due persone nude come imponderabilia messa in scena da Marina Abramoic e da Ulai a Bologna nel 77, ha lo stesso valore se riprodotta in un video? Questa è una delle domande che sicuramente la digitalizzazione forse non potrà, alla quale non potrà rispondere. Questo esempio ci permette di ricollegarci al secondo campo di applicazione, ormai non più così recente, ovvero l'arte digitale. L'arte che nasce utilizzando gli strumenti digitali o se ne serve per il suo allestimento e la soffruizione. Un esempio molto contemporaneo riguarda il primo museo al mondo di arte NFT. Gli NFT appunto sono non fungible token, quindi sono rappresentazioni digitali di un'opera di un'opera d'arte. Un altro esempio riguarda le mostre impossibili degne dimensione ma che personalmente non mi affascinano. Le mostre impossibili presentano in un unico spazio espositivo sotto forma di riproduzione in dimensioni reale e ad altissima definizione l'opera completa dei grandi pittori italiani. Da Leonardo a Raffaello, da Botticelli a Caravaggio, da Pietro della Francesca a Tiziana e così via. La dispersione dei capolavori di uno stesso artista in città di diversi continenti rende pressoché impossibile allestire delle mostre che diano una visione d'insieme dell'opera dei grandi pittori. Una situazione resa ancora più problematica dalla comprensibile contrarietà dei direttori dei musei a concedere il prestio delle opere, aggiungerei anche al costo enorme di una mostra del genere. Nasce da qui l'idea di organizzare e allestire le mostre impossibili, non solo nei musei ma anche nei castelli, nelle ville, nei palazzi storici delle grandi città e nei piccoli centri in Italia e nel mondo. Veniamo adesso al digitale utilizzato come strumento e canale per la valorizzazione, la comunicazione e soprattutto l'ascolto e la partecipazione. In tutte le sue estensioni come l'innesco di un processo che ha messo in discussione schemi tradizionali di organizzazione e strutturazione del museo, in qualche modo ancora da metabolizzare. In questo amplissimo terzo punto di riflessione cerchiamo di dare un ordine. La prima differenziazione da fare a parer mio è quella tra musei o siti virtuali, ovvero quelli che non esistono nella realtà o per cui la realtà è molto diversa, e invece quelli reali che si affacciano grazie alle nuove tecnologie al virtuale e al digitale. Sulla prima sezione sarò breve ma non possiamo non fare alcuni alcuni esempi di un processo sempre più ampio. Nel panorama dei mondi virtuali tridimensionali o mondi virtuali sintetici, un esempio molto interessante riguarda la piattaforma Second Life. Questa piattaforma nella quale gli utenti agiscono attraverso i loro avatar, gli io digitali, fu creata a giugno del 2003 da Neil Stephenson e consta oggi 22 milioni di utenti. Su queste piattaforme esistono molti progetti culturali e anche molti musei. Facciamo velocemente alcuni esempi. Qui vedete Second Life Assisi, la piattaforma su Second Life con la ricostruzione della Basilica di Assisi. Ho scritto, permettetemi, una nota dello sviluppatore su un social media, guardate che cosa interessante. Lui scrive, come forse sapete sono il creatore e l'attuale proprietario della Basilica di San Francesco di Assisi su Second Life. Quindi c'è una proprietà digitale di un bene culturale, ovviamente, che non è di proprietà se non dello Stato, su una piattaforma ovviamente da parte del suo realizzatore. E in questo caso, se volete, cerchiamo di ritornare sui siti. Eccoci qui. Questo è il progetto di Second Life Assisi, dove si può entrare virtualmente con il proprio avatar digitale, quindi nella nostra seconda vita digitale all'interno della Basilica di San Francesco. Eccoci qua. Meritano poi segnalazione alcuni altri progetti. Comunque noi abbiamo appunto, abbiamo anche una versione Second Life della Villa di Livia all'interno del progetto del Virtual Museum of Function via Flaminia. E meritano appunto segnalazione altri progetti, come la ricostruzione del complesso neuragico di Baruni in Sardegna e come vedete moltissime altre risoluzioni. Io voglio farvi vedere, scusate se faccio avanti e dietro con i siti internet, ma mi sembra importante farvi vedere anche questo è il sito di Barumi su Second Life. La realtà ovviamente è molto diversa, come vedete. Non si vede. Non si vede. Vediamo ancora San Francesco. Sì. Vedete? Ok. Sì. Ovviamente la realtà è molto diversa. L'area archeologica è ovviamente come vedete. Qui c'è la ricostruzione e la possibilità di accedere all'interno di quello che era il complesso di Barumini. Siamo di nuovo sulle slide, giusto? Ok. Eccoci, questo è il complesso di Barumini e ovviamente su Second Life ha una sua seconda vita con la ricostruzione. e questi sono tutti i progetti tra i più importanti. Moltissimi sono anche i musei che vivono esclusivamente su piattaforma di Second Life e dunque non costituiscono la trasposizione virtuale di un museo reale, ma solo spazi espositivi virtuali, frutto dell'inventiva e della produzione artistica digitale di numerosi abitanti di questo secondo mondo, in grado tuttavia di auto-regolamentarsi come delle vere e proprie virtual institutions. Chissà che un giorno non dovranno essere normate anche queste istituzioni. Un esempio è costituito dal Bas Moka, un museo virtualmente costruito nel deserto dell'Arabia Saudita, ma strutturato come un museo vero e proprio, con tanto di portale in cui trovare lo statuto del museo, gallerie d'immagini, news, eccetera. Molti altri, invece, costituiscono la trasposizione virtuale su Second Life di istituzioni culturali realmente esistenti, che utilizzano questa piattaforma per un dialogo profondamente diverso rispetto a quello che una qualsiasi altra forma di comunicazione potrebbe consentire. Una seconda vita hanno, ad esempio, il Louvre, con il Second Louvre Museum, il National History Museum di Londra, l'Exploratorium di San Francisco, la James Madison University Museum Studies di Harrisburg, in Virginia, ha allestito su Second Life il proprio campus virtuale, così come ha fatto il Tech Museum di San Giuseppe. Per quanto riguarda il Louvre, io vi voglio far vedere, vediamo un po'. Siete di nuovo su internet, giusto? Esatto. Allora, quando andrà via. Questo è il blog dell'ouvre Second Life, dove ci sono tutta una serie di utenti che si relazionano, che si incontrano virtualmente all'interno di questa piattaforma. Quindi ciascun avatar è un utente che vive quotidianamente la Second Life del Museo dell'Uvre incontrandosi con altri utenti da tutto il mondo. E poi parleremo anche di questo. Quindi i musei che aprono una propria trasposizione virtuale su Second Life mirano soprattutto a sfruttare questo ambiente come una piattaforma nella quale realizzare una didattica museale di tipo immersivo. Tuttavia, se da un lato un utente tramite internet può vedere monumenti, opere d'arte, reperti, rimanendo seduto davanti al proprio personal computer, ottenendo in mano qualsiasi dispositivo o qualsiasi telefono cellulare di ultima generazione, dall'altro non si può nemmeno pensare che la fruizione remota possa coinvolgere l'utente al pari di quella sul posto. La fruizione remota è comunque destinata a rimanere pura simulazione depotenziata rispetto alla visita reale. Tuttavia, la difficoltà di raggiungere i musei, grandi e piccoli che siano, i costi proibitivi dei viaggi e lo stesso senso di inadeguatezza culturale di molti visitatori, questa è colpa soprattutto di molti museologi, sono ostacolati ad una visione di persona, ma non sono certamente, ma non lo sono certamente la visita virtuale che fra l'altro, svolgendosi in uno spazio terzo, va incontro ad un pubblico che può non avere le medesime aspettative di quello fisico. È ovvio tuttavia che per un'istituzione culturale non può essere sul web, non essere sul web o esserlo male, oggi significa non avere modo di raggiungere quest'utenza potenziale seduta dietro un pc. Pensate solo quante di quelle persone che abbiamo visto interagire nel blog di Second Louvre Museum hanno realmente visto il Louvre. Quanti hanno pensato o lo hanno fatto dopo quell'esperienza e quanti di loro siano virtualmente presenti in un contesto, parola difficile da definire in questo mondo virtuale, museale, molto più che durante la loro vita reale. Probabilmente passano più tempo loro all'umro di quanto possa passarlo io. Ma non c'è solo la complessa piattaforma di Second Life. Un altro esempio interessante riguarda i più semplici virtual tour, ormai molto diffusi. Nello specifico vi mostro ad esempio. Eccoci qua. Il virtual tour, lo vedete? Ok. La fortezza, il virtual tour è la fortezza del Museo delle Mura di Cipitella, del Tronto, facilmente visibile grazie a un sito interattivo, come vedete, che apre una serie di funzioni, di scoperte, di guida nel complesso monumentale. Come stiamo vedendo, il visitatore diventa sempre di più attore, cioè elemento attivo delle politiche culturali e di valorizzazione di un museo, fino a volte ad interagire come gli stessi curatori. A proposito di ciò, vi faccio due esempi di musei collettivi, dove è proprio il visitatore ad essere il curatore. Una vera e propria partecipazione corale alla creazione di contenuti culturali caratterizza il MUVILO, il Museo Virtuale della Memoria Collettiva della Lombardia, che attraverso l'uso di molteplici canali media, dalla radio al web, è un museo creato dal basso con il contributo collettivo alla conservazione della memoria comune. Vecchie foto, vecchie riprese, diari, documentazioni private. Questo museo è creato dal pubblico che diventa curatore, che fornisce il materiale che diventa collezione dello stesso museo. Insomma, un museo veramente partecipato. Una soluzione non dissimile, dalle precedenti, è costituita dal portale... ecco qua vedete ci sono anche le mostre, i vecchi mestieri, sempre del MUVILO, con foto antiche concesse dai visitatori, insomma dai co-curatori. Una soluzione non dissimile dalle recenti, dalle precedenti, è costituita dal portale danese 1001 Stories from Denmark, che è un progetto virtuale della Kulturarv, l'Argenzia Culturale della Danimarca, con lo scopo di costruire un unico sito sulla memoria culturale del paese, con l'aiuto di quasi 200 esperti di storia danese, rivolto non solo al pubblico nazionale, ma specialmente ai turisti. Gli utenti remoti sono invitati a collaborare attraverso commenti o strumenti di condivisione delle proprie conoscenze sui luoghi e sulla storia danese. Alla modalità remota si è affiancata quella mobile, con la realizzazione di un'apposita app in inglese e in danese, con la quale realizzare un itinerario culturale per la Danimarca, leggendo e ascoltando sul proprio mobile device queste storie danesi che possono anche essere commentate, condivise o partecipate con la propria personale esperienza su un apposito guestbook, quindi esattamente un museo di co-curatori, di turisti, visitatori, co-curatori. Parliamo dei musei dello spazio digitale. Le nuove tecnologie applicate ai beni culturali rappresentano quindi un elemento di grande innovazione che può configurarsi come una vera e propria rivoluzione nell'ambito delle istituzioni culturali. L'utilizzo delle nuove tecnologie permette infatti di moltiplicare la capacità comunicativa di un bene culturale, che diventa polimodale, ovvero in grado di utilizzare e sovrapporre più forme di comunicazione e quindi contemporaneamente in grado di diventare più accessibile. Tuttavia le nuove tecnologie sono uno strumento potente ma non miracoloso se mancano alcuni requisiti fondamentali. In primo luogo la scelta delle tecnologie deve essere coerente non solo con la collezione, protagonista della comunicazione, ma anche con il museo e soprattutto con il visitatore. Tecnologie troppo moderne possono creare nel visitatore la stessa sensazione di inadeguatezza che danno i pannelli museali troppo tecnici e che fanno dei musei non i luoghi della conoscenza che tutti vorremmo che fossero, ma spazi che misurano la nostra ignoranza e la nostra frustrazione. La riflessione quindi sul digitale non deve essere diversa da quella classica. Il digitale non deve inoltre essere un sostituto improprio o fuorviante dell'esperienza del rapporto materiale con l'opera o con l'oggetto. Conosco esempi di musei in cui la tecnologia è stata spesso banalizzata. Il semplice trasferimento di contenuti da pannelli a schermi a LED viene scambiato da coloro non avvezzi a forme di musealizzazione 2.0 con nuove innovative modalità di comunicazione. Qual è quindi la giusta tecnologia da utilizzare in un museo? Domanda questa che si pongono in molti ma che forse parte da un presupposto sbagliato. Non esiste una tecnologia giusta, esiste il giusto linguaggio o ancora meglio una pluralità di linguaggi e contenuti che permettono al museo di adempiere il proprio compito, condividere il sapere. La grande rivoluzione del digitale ha reso desueto il cosiddetto audience development. Questa è una domanda che faccio a voi. Possiamo davvero pensare che il pubblico vada sviluppato quindi plasmato nel conformarsi a modi, forme e contenuti che sono stati già pensati a questo scopo da chi ha il compito di ammaestrarlo? Il dialogo nuovo che si deve starare quindi con il fruitore del bene culturale e professionista non deve essere più gerarchico ma negoziato ovvero stante la scientificità dell'offerta garantita dal professionista il museo deve diventare uno spazio sociale e cognitivo. Parliamo un secondo dei musei che comunicano all'esterno. I social network di un museo diventano quindi non un luogo di promozione o comunicazione ma un'eccezionale arena nella quale il museo svolge una parte essenziale della propria missione. Il museo di oggi non comunica nello spazio digitale ma esiste e questo lo hanno capito fin troppo bene i musei più prestigiosi che hanno avuto il coraggio di contaminare la loro immagine e il loro prestigio istituzionale in questa nuova dimensione. Il digitale è una leva per porci domande differenti che servono a mettere in discussione in modo profondo la funzione del museo di oggi e di domani perché hanno forzato la classica visione del museo e le domande di chi ci lavora che oggi deve porsi alcuni nuovi interrogativi. Chi ha voce? Chi sceglie che cosa dire? Che cosa può dire? Perché lo si dice? E infine la grande domanda qual è il patrimonio? Trasformando la concezione ottocentesca del museo tempio nel museo forum. Ma soprattutto quale lezione, quale insegnamento desideriamo che il museo lasci al visitatore? Il passaggio di un visitatore in un museo storico, storico artistico? Lo renderà via via più edotto come in un percorso formativo diacronico e destrutturato come storico dell'arte? Saprà qualcosa di metodi attributivi, di linguaggi tecnici, di tecniche artistiche? La risposta è ovviamente no. La grande bellezza dell'opera è sufficiente alla comprensione? Probabilmente no. Cosa intendiamo per valorizzazione? Personalmente sono sempre stato chiaro su questo tema. E così è sempre stato il mio agire di museologo, di curatore di mostre, di gestore di realtà culturali. Il bene culturale non ha un valore in sé. Non è la Coca-Cola, per intenderci, per cui tutti noi siamo disposti a spendere un euro per acquistarla. Non viva all'interno di una logica di mercato. Quindi qual è il valore di un bene? Dove si può rintracciare? Sicuramente il valore di un bene sta nella sua percezione, nell'esperienza che il visitatore ha di quel bene, di quel museo, di quel prodotto. E qui ci viene in aiuto l'esperienza della tecnologia, alla cui base però deve esserci una visione meno posizionale e più democratica del patrimonio. ad esempio, nei siti web dei musei, un sito web museale non deve limitarsi ad essere solamente un elenco di informazioni del museo, con gli orari di apertura, il costo, la pubblicità di eventuali mostri. Il sito web contemporaneo deve consentire agli utenti remoti di partecipare alla creazione di contenuti culturali, di aggiungere le proprie etichette ai menufatti della collezione, lasciando che si vengano così a creare delle interpretazioni informali degli oggetti e delle classificazioni di tipo folxonomico, che ampliano il vocabolario tecnico museale in modo innovativo, semplice e partecipato, ed aiutano in modo esponenziale alla indicizzazione delle collezioni. Questo può consentire alla comunicazione museale remota di essere raggiunta attraverso ricerche che utilizzino significati non convenzionali, cercando di superare la creazione di codici interpretativi unirusi, che trova la sua espressione finale più astratta proprio nella digitalizzazione dei contenuti. Lasciare che gli utenti inseriscono tag alle collezioni creando folxonomie proprie consente non solo ai musei di guardare agli oggetti o alle opere d'arte con l'occhio del non esperto, ma soprattutto consente ai non esperti di rintracciare sul web qualcosa che magari tassonomicamente indicata non avrebbe trovato. Inoltre, consentire all'utente di contribuire alla produzione e catalogazione di contenuti culturali genera ulteriore valore raggiunto anche in termini di dinamicità del sito web del museo. Ad un livello ancora maggiore abbiamo ad esempio piattaforme come Curator, a cura di tre dipartimenti della UCL, del Centro del Digital Humanities, Advanced Spatial Analysis e Museum and Collection. È una piattaforma web collaborativa, finalizzata alla co-creazione di contenuti e di significati e interpretazioni riguardante la collezione online del Grand Museum of Zoology e del Petri Museum of Egyptology di Londra. Dalla sezione Join the Conversation, gli utenti sono invitati di volta in volta a rispondere, what do you think, a specifiche domande riguardanti gli oggetti della collezione, lasciando commenti e informazioni che divengono parte integrante della storia digitale di questi artefatti. Alcuni musei inoltre come il Metropolitan Museum di New York, il MET, tengono in altissima considerazione quest'aspetto della comunicazione virtuale, museale. Il MET ha un profilo per ogni tipo di social network. Dal momento che è presente su Flir, Facebook, Twitter, YouTube, MySpace, fra i musei italiani spicca per livello e qualità di comunicazione il MART di Trento e Rovereto, che sul sito web ha una sezione non a casa intitolata MART 2.0. Da questa sezione è possibile accedere alle pagine del museo aperte su Facebook, Twitter, Flir, YouTube e dalla quale potersi abbonare anche al servizio di Feed RSS. Parliamo adesso delle collezioni online. Un altro campo di sviluppo è la messa online della collezione. Nel 2013 il Rift Museum di Amsterdam, a seguito di grandi lavori di ristrutturazione che lo avrebbero visto chiudere per molto tempo, ha utilizzato ogni strumento analogico e digitale per realizzare l'obiettivo di restituire l'arte olandese agli olandesi e al mondo, concependo un ecosistema di capillare distribuzione del loro patrimonio. Le opere sono state stampate su cartoni di latte, ma anche messe online ad alta risoluzione, liberamente scaricabili. Pensate invece a quanti colleghi oggi non permettono neanche di fare foto nei musei. In un numero elevatissimo, che ora conta centinaia di migliaia di oggetti. Il sito propone al visitatore di creare uno spazio proprio, un profilo personalizzato, nel quale accogliere e salvare le opere che preferisce. Naturalmente la creazione della selezione personale conduce anche l'utente, non esperto, a curiosare e navigare attraverso i percorsi proposti, con chiavi di lettura che non richiedono una competenza sulla natura delle collezioni. Dopo solo un anno dall'apertura del sito, nel 2015 il Risk Museum dichiara che 200.000 utenti hanno creato un profilo online, mentre le visite si attestano sui 15 milioni, grazie anche a percorsi di visita che l'utente può crearsi a seconda delle opere che vuole vedere. Privileggiando una comunicazione multidirezionale, questi musei hanno implicitamente accettato che la propria voce si sovrapponesse a quella dei propri utenti, riconoscendo quindi a essi pari dignità nei processi di generazione e di trasmissione delle informazioni. È la voce del pubblico a forgiare il museo, a indirizzare il suo operato, a determinare la sua immagine, a condizionare il suo modo di allestire, di parlare, di rappresentarsi. Chiudo con alcuni esempi significativi. Nel 2008 capostipite di questa nuova tendenza fu il Brookings Museum con il progetto Click and Crowd Curated Exhibition. La sfida fu di chiamare la comunità a partecipare online al processo di selezione delle opere per una mostra fotografica, quindi gli utenti online diventavano curatori. 389 immagini di artisti produssero online 410.000 valutazioni e in mostra furono esposte le 80 foto più votate. Splendida iniziativa fu inoltre quella del MoMA nel 2011. Si consegnava un foglietto cartaceo ad ogni singolo visitatore con una semplice domanda. I went to MoMA and. È tanto spazio bianco che i visitatori dovevano riempire. La destinazione dei foglietti era, in questa prima fase, una bacheca fisica, ma successivamente ne venne creata una versione web con un sito dedicato che vedeva i bigliettini esposti in una bacheca digitale, divenendo la più colossale campagna pubblicitaria di promozione di un bene, di un museo. Parliamo adesso un attimo della musealizzazione all'interno dei musei. All'interno dello spazio museale numerosi sono gli approcci tecnologici e digitali alla visita, tanto che non si dovrebbe più parlare di visita ma di viaggio all'interno di un museo. Un viaggio seducente, trasformativo e interattivo dalle potenzialità infinite da finali non scritti, che si modificano sino a uscire dagli spazi comunemente etichettati come museali. Il concetto di connessioni oggi evolve verso una nuova modalità di contatto con le opere d'arte, una modalità le cui versatili sfaccettature ben si racchiudono nell'idea di creazione di presenza. Presenza fatta di empatia, gioco, contatto, legami, esperienze ed apprendimento. Un'idea di presenza che ci permette di strabordare dal mero concetto di museo, restituendoci esperienze non più formate dal semplice osservare opere artistiche statiche, ma dal vivere infiniti percorsi che si legano in maniera indefinita alle emozioni che ogni persona prova. Adesso voglio farvi due esempi personali. Questo è un esempio del progetto Glass Beacon fatto al Museo Mercati di Traiano, al Museo dei Fori Imperiali, dove avvicinandosi alle opere d'arte grazie ai beacon, quindi ai ripetitori bluetooth a bassa frequenza, muniti di occhiali di ultima generazione dotati di un piccolo display, quindi sono visori di realtà aumentata, i visitatori dei mercati di Traiano possono scoprire la storia del museo e dei suoi personaggi ricevendo tutte le informazioni, testi, immagini, video o una riproduzione audio. Il progetto fu molto interessante, se devo fare una critica a questo prodotto lo trovo ancora troppo tecnologico e poco democratico, sotto numerosi aspetti. Nei giorni del progetto abbiamo messo a disposizione dei nostri visitatori tre Google Glass, del costo di 600 euro l'uno. Considerando che il tempo di visita del nostro museo si aggira intorno alle tre ore, significa che il prodotto è stato usato da circa dieci utenti al giorno. Considerando che il nostro museo fa più di quattrocento visitatori al giorno, il costo, la manutenzione di un eventuale progetto, anche se innovativo, si scontrano contro una non completa democratizzazione dell'offerta e quindi è stato deciso di abbandonare la sperimentazione. Faccio una parentesi. Quando dicevamo che la tecnologia deve essere legata al tipo di pubblico e alla tipologia di museo, questo è un esempio. Un museo che ha moltissimi visitatori non può tendenzialmente avere una tecnologia one to one. Questo è un esempio che vi faccio, perché come accennato prima, la tecnologia da sola, se non integrata alle esigenze e alla programmazione culturale di un museo, non ha i benefici che ci aspetteremo. Le tecnologie non sono quindi uno strumento miracoloso, se mancano alcuni requisiti fondamentali. In primo luogo la scelta delle tecnologie deve essere coerente non solo con la collezione, protagonista della comunicazione, ma anche con il museo e soprattutto con il visitatore. Altrimenti anche in questo caso si alzano barriere che generalmente sono di tre tipi. Il costo è l'impedimento più rilevante, sebbene la sua incidenza si riduca con il passare del tempo. La complessità, essa è dovuta sia all'utilizzo delle nuove tecnologie, sia all'estrema diversificazione dell'offerta. Parlo di complessità perché so che mio padre non utilizzerebbe un prodotto del genere, quindi comunque non è democratico. Le barriere di secondo livello. Molti utenti sono scoraggiati ad accedere a servizi innovativi a causa di esperienze negative, dovute ad esempio alla qualità dei servizi offerti. Un altro esempio di musealizzazione virtuale e forse più democratica che ho personalmente sperimentato con successo durante l'allestimento della mostra Made in Roma, di cui sono stato curatore, è stata quella del progetto il curatore racconta. La scelta curatoriale è stata quella di una partecipazione di pubblico più ampia possibile, che prevedeva pannelli tradizionali ma accessibili, ovvero con un linguaggio comprensibile e pochi tecnicismi. Strisce di fumetti, per i più piccoli che descrivevano le sezioni attraverso il gioco e il disegno. Oggetti parlanti che si animavano in prima persona, si descrivevano al visitatore e infine di esperienze di realtà aumentata. Il primo obiettivo, come vedete, è stato quello come curatore di concepire un prodotto che offrisse al visitatore contenuti aggiuntivi alla mostra. Da ciò è nata un'app che mostrava all'utente contenuti che mai prima erano stati raccontati, ovvero gli affanni dell'organizzazione di una mostra, la scelta dei materiali e il loro allestimento. Una volta installata l'app Made in Roma, il pubblico poteva quindi seguire percorsi in totale autonomia, accompagnato da speciali narratori, gli archeologi del museo, i curatori. Attivata l'app, al visitatore non rimaneva altro che inquadrare con il proprio smartphone alcuni pannelli fotografici posizionati vicino agli oggetti. Inquadrata l'immagine, questa si animava in un video di approfondimenti in realtà aumentata, dove ad esempio un benvenuto al visitatore da parte del curatore, un'intervista spiegata all'utente che in un'intervista spiegava all'utente il concept della mostra, oppure l'immagine di un grande capitello che il visitatore si trovava sistemato, restaurato per la mostra, si animava in un video in cui l'oggetto appariva ancora in situ, nel foro di Cesare ad esempio, con al suo fianco l'archeologo che spiegava al visitatore la sua decisione di scegliere quell'oggetto per la mostra. Questa app ha permesso un costante afflusso di nuovi contenuti, una continua interazione tra oggetti e concetti, insomma un'esperienza che ha abbracciato più direzioni, grazie a una progettualità creativa che ha interpretato e mixato più discipline. Poi quando vorrete vederlo, non è proprio propriamente tecnologia, ma un altro elemento molto democratico, mi permetto di dire, fu la creazione, forse per la prima volta per una mostra, almeno nel nostro paese, di un trader per la mostra, fatto da esterni all'amministrazione, in questo caso un istituto tecnico romano di cinematografia, che se volete poi, quando ci sarà tempo, vedremo il trailer della mostra. Vi faccio anche delle altre, velocemente, degli altri esempi e chiudo. qui siamo al museo dell'immigrazione marchigiana a Recanati, ed ecco qui, questa è la musealizzazione con, faccio vedere, questa è la musealizzazione, il visitatore si trova di fronte ad un vagone del treno con un emigrante, con più emigranti, che parlano al visitatore. Buongiorno, piacere, io sono Bartumioli, Bartumioli Fasinto, classe 1905. italiano naturalizzato, città, e quindi diciamo una musealizzazione molto interessante e inoltre vediamo un po' se c'è, straordinaria esperienza fu quella anche del Museo Galata di Genova, che ha le stesse caratteristiche del museo di Recanati, dove al visitatore all'ingresso viene dato il passaporto di un emigrante realmente esistito. Il percorso della mostra, suggestivo e interattivo, prevede una serie di nozioni, di parole chiave, che il visitatore deve imparare fino alla fine del percorso, dove un poliziotto americano di Dogana, sempre interattivo ovviamente, pone al visitatore delle domande che, se risposte correttamente, gli permetterà virtualmente di entrare negli Stati Uniti. Io fui rimanato indietro. Insomma, nella nuova Visitor Experience al centro non è più l'opera d'arte in sé, ma l'interconnessione tra arti, esperienze, tecnologie e persone, come generatore di emozioni e sensazioni. Un'esperienza in continua evoluzione con il visitatore promosso esso stessa da artista e regista della propria esperienza. Un visitatore trasportato dal viaggio che lui stesso costruisce. Coesione, connessione, partecipazione saranno le parole chiave del futuro della museologia. I ponti che accompagneranno i visitatori durante le esperienze di visita innovative, incoraggiando la giocosità e l'apprendimento. In sintesi, il digitale non rappresenta né un'aggiunta né una proposta out-out rispetto all'analogico. Piuttosto, abbracciare il digitale comporta una trasformazione nel cuore dell'identità e del modus operandi del museo. Implica uno spostamento radicale dal pensare il museo come un luogo di deposito e pellegrinaggio, al pensare il museo invece come una piattaforma o un hub nel quale le esperienze in presenza e non vengono fornite in forme e formati differenti, convergenti e divergenti, ossia il museo come tessuto di connessioni e non solo di collezioni. Grazie. Grazie.